16 sono i giovani che a martedì 25 maggio hanno iniziato l'anno di servizio civile in Caritas. Sei ragazzi presteranno servizio nel centro di ascolto, quattro nella sala della pace, in attività di educazione e promozione alla pace e in percorsi nelle scuole per accrescere nei giovani una cultura di integrazione e giustizia. Gli altri sei nelle comunità parrocchiali di Santa Maria Goretti a Sant'Orso, San Biagio Cucurano, nella Gran Madre di Dio a San Lazzaro, due per ogni oratorio a servizio dei più piccoli. Nella formazione, nel monitoraggio e nella verifica dell'esperienza saranno accompagnati da Laura Paolini e Elenia Maracci, referenti diocesane per il servizio civile, dalle figure referenti delle sedi e da altri collaboratori e volontari. Ci auguriamo, ha sottolineato Laura Paolini, che possa essere per i 16 giovani un anno di crescita personale grazie alla Scuola dei Poveri, alla formazione e allo stile di Caritas, uno stile fatto di ascolto, di accoglienza e condivisione.